Sì, grazie mille Presidente, sarò molto breve perché è un tema che in realtà richiedebbe molto tempo, molto dibattito, ma anzi fortunatamente in Italia non avviene, perciò è un festival che avviene soltanto in Cina, esattamente nella città di Yulin, comunque parlarne e sensibilizzare anche i cittadini romani fa sempre bene. È un tema molto sentito, sia per quanto riguarda ciò che accade in termini di violenza sugli animali, animali di affezione, così come sono considerati in Italia, in Cina purtroppo no, nel periodo Covid si è lavorato molto su una modifica della legge, cosa che si sperava molto anche dall'Unione Europea, da molti paesi che vedono queste pratiche come pratiche barbare, ma purtroppo anche l'emergenza Covid non ha in qualche modo cambiato questa cultura, se così si può chiamare, che va avanti per tantissimi anni, ma che comunque insomma vede degli avvenimenti, degli accadimenti, insomma che provano la sofferenza in la vita ai cani e ai gatti, ecco noi come paese, o meno come amministratori locali, insomma, come amministratori locali, insomma, ecco io come Presidente della Commissione Ambiente non ho mai accettato questa pratica, insieme a me anche a molti colleghi della maggioranza, io ho ritenuto importante sottoscrivere la mozione del Consigliere Filomeni, con il quale abbiamo comunque sempre condiviso questo tema, un tema del benessere animale, perciò non posso che votarla a favore, sperando che il governo italiano si faccia in qualche modo portavoce di una questione che comunque vede uniti tutti i cittadini italiani su un tema di sensibilità, di benessere animale, di civiltà e di non violenza. Perciò, Presidente, il voto sarà favorevole e ringrazio il Consigliere Filomeni per aver presentato questo voto.